Amiche, benvenuti a questa nuova lezione per imparare insieme la meravigliosa lingua italiana. Oggi sono felice di dare seguito alla seconda parte di questa emozionante lettura di poesie italiane. Poesie italiane che possono sognare proprio perché, oltre al linguaggio del Dante Alighieri, sommo poeta, abbiamo grandissimi scrittori, grandissimi letterati, pensatori, filosofi e poeti che hanno reso celebre la nostra meravigliosa nazione e oggi vi do il benvenuto più cordiale perché possiate insieme a me leggere queste meravigliose poesie. Come sempre, la persona che non parlano molto bene italiano e gli chiedono apprendere a comunicarsi poi possono iscrivervi al videocurso gratuito di italiano utilizzando la web www.nicida.com e di questa forma ricevervi gratuitamente le classi che ti permettono apprendere a comunicarti in italiano di forma super simple, pratica e molto divertida, direttamente a tuo correo elettronico. Un forte abbraccio, di fatto io per qui parlo sempre in italiano per che puoi seguire aprendendo, però ovviamente se accada in questo diretto, casualmente, ora è nuovo, ora è nuova, per favore ricordate che qui tieni il videocurso gratuito, assolutamente pratico per apprendere italiano direttamente a tuo correo elettronico. Ok, dunque abbiamo detto queste prime parole iniziali per darvi il benvenuto e come sempre ogni promessa è debita. Io proprio l'altro ieri avevo iniziato questa lettura meravigliosa con delle poesie che avevamo letto emozionandoci. Avevamo iniziato con Giacomo Leopardi, la sua meravigliosa poesia L'Infinito, l'infinito poesia che io personalmente amo moltissimo, anche perché sento nella mia propria esperienza di aver più di una volta accolto l'essenza di quell'assoluto, di quell'immensità, di quell'amore, di quella sorpresa del vivere di fronte a tanta maestosità, parlo proprio della creazione così mirabile, e poi avevamo letto una poesia eccezionale, quella di Giuseppe Ungeretti Mattino, fino anche Salvatore Quassimodo e Trilussa nella sua. Dunque eravamo arrivati alla poesia di Primo Levi, che adesso mi accingerò a leggere, ma intanto voglio salutarvi tra due, tra tutti e due persone. Ciao Graziella, ciao Letti, come sempre pueden compartir este live, sinceramente dandole like al video, compartiendo nella pared del Facebook e nel muro social con sus amigos y familiares. Allora, iniziamo dunque insieme questa lettura, tenterò di fare una lettura il più possibile letterale, poi passerò anche ad una spiegazione, nei termini anche simbolici, semantici, anche per aiutarvi con questa bellissima lingua italiana. Allora, leggiamo questa piazza di Primo Levi che si intitola Se questo è un uomo. Se questo è un uomo, tra l'altro, titolo importantissimo anche del libro di Primo Levi, in realtà fece una raccolta di memorie e ricordi del suo periodo purtroppo orribile passato come sopravvissuto dell'Olocausto nei campi di concentramento. Dunque, un sopravvissuto, una persona che ha purtroppo dovuto far fronte agli orrori della storia, ricordiamoci appunto che Primo Levi, poeta, scrittore, in realtà memorialista dovremmo dire più che altro, scrive nelle sue memorie proprio gli accadimenti, tentando anche di dare un'interpretazione umana a ciò che stava accadendo in quel periodo, a se stesso ed anche in ambito collettivo, perché dovette vivere sulla propria carne l'esperienza traumatica del nazifascismo, in particolare dell'Olocausto e quindi della deportazione in situazioni ovviamente subumane. Saluto Iris, Luz, Carime, Lita, Letti, Graziella, un forte abbraccio a tutti, mi raccomando condividete questa diretta, date like per aumentare la visibilità di questo video, ma soprattutto anche per dare forma e corpo alla diffusione dei messaggi di persone così importanti come Primo Levi, conosciuto in tutto il mondo, grande letterato italiano, andiamo a leggere questa poesia e poi la commentiamo insieme. Inizio è un uomo. Voi che vivete qui, nelle vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per un uomo, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore stando in casa, coricandovi, alzandovi, ripetetela ai vostri figli, o vi si sfascia, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Allora, è una poesia molto dura, è una poesia molto autentica, io vorrei ovviamente provare ovviamente a tradurla in spagnolo, consideriamo che alcune parole non saranno certamente semplici dal punto di vista semantico in spagnolo, ma per chi già mi segue da tempo e conosce chiaramente la proprietà linguistica della lingua italiana, si rende conto anche dell'importanza strategica di questa poesia nella memoria storica, e che Primo Levi ci esorta a ricordare periodi così oscuri della storia dell'umanità vissuti da se stesso e dalle persone intorno a sé. Io vi assicuro che leggere Primo Levi è assolutamente una necessità, una necessità umana, anche morale, credo, per capire veramente cosa è stato e cosa può tornare ad essere, laddove noi dimentichiamo quell'umanità, quella carità fraterna necessarie per impedire l'abominio, cosa può tornare ad essere. Allora, ve lo leggo rapidamente in spagnolo, Letty me dice che lo ha compartito, moltissime grazie, voglio di fatto per questo decirte grazie, perché ogni persona che comparte questo video, dimostra autenticamente generosità. Che voglio dire? Qui siamo un gruppo, io lo che faccio è utilizzare il tempo per poter aiutare in tanto, non solo al idioma italiano, ma anche con lo di expressare una cultura che oggi in dia realmente non si explica, non si insegna, e è per questo anche i problemi che abbiamo oggi in dia in la società. Quando a voi comparte, o le dan like a questo video, dimostra senzillamente in sinergia e con generosità autentica di volerciare a comparte lo che stiamo facendo. Non sono meramente passivi nel aprendizaggio, sino che anche si dann la opportunità di partecipare. Participare e fare che altri possano di forma solidaria a prendere le cose importanti che abbiamo dicendo. Quindi, molte grazie a Letty. Salutemo anche Isidro, salutemo Luz Carime, Iris Guerrero, che mi dice ciao Marco, felice giornata. Abbiamo anche Lita, che mi scrive dalla Colombia. Un forte abbraccio a tutti, cari amici, mi raccomando. Mirta mi dice parla più lentamente, per favore. Querida Mirta, puedo, si quieres, hablar más lentamente, la voy a repetir con más calma. Lo que sí, te quiero invitar a considerar es que cuando ustedes tienen dificultad a comprender este tipo de video, es porque que tal vez no han ya aprendido el italiano conmigo, utiliza el video curso gratuito de italiano que desde cero les enseña luego a poder comunicarse y comprender italiano di tal forma in cui potrebbero seguire e aprendere molto bene questi video. Esos video los faccio in vivo per poter sempre difendere la cultura italiana e seguire con il aprendizaggio. Claro, queda obvio que ustedes deben necesariamente antes tomar este video curso gratuito de italiano en marconicida.com para recibir al correo electrónico todas las clases y les van a permitir luego entenderme perfectamente por aquí o por lo menos me van a entender un 80 o 90% esto lo sé por experiencia porque ya tengo tantos estudiantes y experiencia así que de todas formas voy a hablar más lentamente ok andiamo a tradurre questa poesía letteralmente significa più o menos tu que vives de forma segura en tus cálidos hogares está en realidad al plural por lo tanto sería vosotros que vivís seguros en vuestras templadas o cálidas casas sería hogares ustedes si lo quieren traducir al latinoamericano ustedes que encuentran volviendo a casa la comida caliente y los rostros amables de amigos rostros amigables consideren si esto es un hombre sería aquel que trabaja en el barro aquel que nos conoce la paz que lucha por mitad de un pan que muere por un sì o por un no es decir por un sì o por un no del jerarca en este caso el jerarca nazista que prácticamente por nada los quiere matar porque está hablando del holocausto de la condición subhumana en la que estaban en ese entorno cuando el siglo pasado la dictadura horrible y el abominio nazifascista en particular en Alemania y luego en los países dominados por esta pues Hitler creó junto a todo su pueblo esta infame esta horrible cobarde inhumana devastadora genocida matanza y crueldad en contra de casi 15 millones de personas completamente inocentes por solo tacharlas de ser inferiores es una locura que lamentablemente está volviendo de moda hoy en día con el tema de los nazipas que serían esos pasaportes horribles que están haciendo en nombre de una nueva ola de absurda dishumanidad inhumanidad que es ahora bajo la forma de una dictadura sanitaria bueno entonces que dice considere si se trata de una mujer considere si esta es una mujer sin pelo y sin nombre porque le daban un código de barra en esa altura sin más fuerza de recordar ojos vacíos y frío en el vientre como una rana en invierno mediteis que esto ha sido os comando sería presente les mando estas palabras es una obligación moral recordar esas palabras y dice esculpen esas palabras en el corazón en vuestro corazón quedando en casa o cuando se van por la vía o cuando se acuestan o cuando se levantan tienen que recordarlo siempre y tienen que repetir repetir estas palabras a vuestros hijos o como una forma de prácticamente consecuencia si es que no lo hacen o se le destroce la casa o que la enfermedad os impida o que vuestros nacidos se retuercen en vuestra contra eso es un poco el concepto entonces ¿por qué tanta fuerza en el lenguaje? ¿por qué tanta increíble potencia de simbología en contra de este mal profundo y que la gente tiene que recordarlo? para que eso no vuelva a pasar y hoy en día nos lo vuelve a decir hoy en día en que se sigue practicando el abominio meditado por causa de una elite satánica que permite la vuelta a un pasado tiránico donde se destroza la humanidad y la dignidad humana queda atrapada en un mecanismo horrible de discriminación y de separación del tejido social para decir a los nuevos judíos persecutados hoy en día que son las personas que no quieren ceder ante esta dictadura sanitaria y quieren mantener la libertad y sobre todo la dignidad humana esto es lo que puede volver a pasar por eso es que Primo Levide dice recuerden que no todo empezó con el holocausto sin más todo empezó lo dice en otras cartas que yo he leído y les he leído aquí también cuando los políticos empezaron a dividirnos repartiendo odio y violencia verbal para luego discriminarnos y crear lo que están creando hoy en día en el mundo por lo tanto mucho cuidado como veo increíblemente que los números de las visualizaciones bajan en cuanto yo toco ciertos increíblemente pareciera que pues los algoritmos como siempre bien bien prontos a censurar pero no importa seguimos con la verdad porque solo la verdad no se es libre ahora dicevamos Primo Levi se esto es un uomo ahora lo lego de nuevo ok muy importante dunque Primo Levi se esto e lo leggero que trabaja en el fango andando per via coricandovi alzandovi ripetetele ai vostri figli o vi si sfaccia la casa la malattia vi impedisca i vostri nati insomma in poche parole il grande Primo Levi ci sta in maniera così ovvia chiara forte dando un monito così pesante in termini morali in termini civici come da volerci ammonire da volerci investire con tutta questa forza simbolica per farci capire che l'obbligo morale di ricordare il passato che fu nella tremenda orribile passione di un popolo che venne sterminato a causa della malvagità abominevole di pochi che però grazie alla complicità dei molti divenne di fatto un olocausto devastante dunque io accolgo le parole di Primo Levi e vi dico sappiate che se non tornate sulla retta via certamente vivrete l'inferno perché questo è poi il messaggio di Primo Levi ci mette in guardia dall'inferno sempre pronto ad investire la nostra umanità laddove noi perdiamo il nostro amore dove noi perdiamo la verità la giustizia la libertà la carità fraterna ciao Malena un forte abbraccio anche a te ti ringrazio sei molto gentile che messaggio carino che mi scrive Malena grazie proviamo a far quel che possiamo ricordo a tutti che potete anche sottoscrivervi al canale di youtube Marco Nisida c'è un canale su youtube Marco Nisida potete sottoscrivervi e attivare la campanella per tutte le persone che si stanno sincronizzando ora che le encanta il mio stile o che le può gustare la cultura italiana e l'ideoma italiano che vogliono seguire apprendendo ricordate che per poter apprendere da forma super rapida farsi pratica e divertita a chi tiene un videocurso gratuito italiano che puoi restituire direttamente al correo elettronico suscrivendosi nadamas e marconisida punto com allora andiamo a vedere la prossima poesia la prossima poesia è quella di Eugenio Montale Eugenio Montale che anche un grandissimo poeta scrittore sono tutti questi poeti del novecento quindi poeti comunque più vicini alla nostra cronologia stiamo parlando del secolo scorso Eugenio Montale è un altro uomo insieme ad altri che vivendo le difficoltà delle guerre mondiali in particolare iniziò chiaramente come tanti altri poeti e intellettuali a sentire su se stessi la necessità di pensare spiegare ponderare meditare la condizione umana soprattutto la condizione umana all'interno di un contesto che è quello tragico delle grandi guerre mondiali e poi chiaramente delle dittature del novecento allora andiamo a leggere saluto anche Jacqueline andiamo a leggere questa poesia Eugenio Montale il titolo della poesia è merigiare pallido e assorto merigiare pallido e assorto lo vado a leggere con calma non è facile perché c'è anche una poetica ma c'è anche poi una sapiente forma poetica che utilizza con parole molto molto specifica propria dello stile di Montale quindi cercherò di fare del mio meglio per leggerlo merigiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto notate in questo caso proprio l'utilizzo delle rime che aiuta molto la lettura della poesia lo vedrete dunque anche le parole vengono selezionate in base alla capacità musicale alla capacità sonora merigiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli frusci di serpi vi faccio notare un'altra cosa importante l'utilizzo che fa personalmente molto gravevole che fa Montale nelle parole che sono parole che evocano nella loro proprio fonetica un po' il senso della parola schiocchi schiocchi frusci frusci esas palabras para explicarselo muy bien a las personas che non hablan italiano come primo idioma sono palabras che reflejan in su proprio contenuto fonetico il sentido di lo che quiere dire la parola sono parole specifiche nel uso poético e nos permiten entender exactamente che è il fruscio fruscio schiocchi schiocchi la palabra misma con su fonetica non si informa de lo che è la semantica il significato della palabra molto interessante ok andiamo a leggere nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche cora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche osservare tra fondi il palpitare l'uomo di scaglie di mare mentre si levano tremoli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia allora innanzitutto leggere questa poesia è veramente difficile lo rifarò con calma con l'aiuto di dio affinché sia possibilmente semplice da comprendere ma capite bene che lo stile fonetico utilizzato per le rime utilizza dunque parole che non sono di facile uso colloquiale e che quindi tradurle sarà un po' complicato ma io ci provo seria praticamente merigliare merigliare che viene anche magari dall'idea stessa del meriglio quindi seria pálido e absorbido in una pared di jardin al rojo vivo è una metàfora per dire che tanto caliente sta esa pared che pareciera al rojo vivo è chungco tra le servizi e e le pinceli estallido di mirlo susurro di serpiente sta describendo un po' dottom la situazione di la fauna dentro della flora nel di l'ietà del suelo o nelle veche espiar las filas di hormigas rojas che ora se rompen e ora se entrelazano che significa praticamente sono parole complicate di uso poético ma in polle parole sta observando tutto lo che succede in la naturalezza di esse lugar per esempio le centri che stanno on e poi ovviamente a volte c'è in momentos in cui si vanno e poi dice observar il latito entre las frondas lejos de las escamas marinas, mientras que los crujidos temblorosos mienten de cigarras de pájaros carpinteros calvos o sea es muy complicado literalmente sería se escuchan, se levantan estos sonidos de pájaros básicamente, y entrando en el sol que deslumbra escuchar con triste asombro como es toda la vida y su trabajo haciendo referencia al trabajo que tiene la mujer para parir, la gestación en esto seguir una pared que tiene encima, en la parte superior fragmentos afilados de botella ok o sea a ver que quiere decir en pocas palabras porque es muy complicado soy consciente de que no le estoy proponiendo lo más fácil de hecho vuelvo a decir si es que quiere aprender a comunicarse en italiano desde cero de forma fácil divertida con frases útiles para poder viajar a Italia conocer italianos hablar comunicarse paso a paso video tras video en situación de la vida real ahí tienen la posibilidad video curso gratuito italiano desde cero marconicia.com se puede suscribir y recibir todo el correo electrónico ok mientras tanto ¿qué significa aquí? luego lo digo en italiano esta parte en la poética propia de Eugenio Montale que ha habido como decía la situación de la guerra mundial y de otros momentos espantosos del siglo pasado donde entre dictaduras tiranías holocaustos genocidios bombas atómicas y guerras mundiales obviamente esas personas un poco traumadas y justamente nos quieren poner a memoria histórica de lo que pasó en Europa como para que nosotros no repitamos los mismos problemas y de hecho aquí sencillamente él utiliza una poética muy naturalística donde habla de la naturaleza en su divenir en su formación en su transformarse y quiere decir en esa poeta es básicamente que la vida no es fácil y que en pocas palabras la vida en su trabajo de divenir de convertirse de transformarse pues tiene un sacrificio porque la metáfora que pone es cuán complicado pueda ser vivir la condición humana la condición difícil de nuestra humanidad cuando tantos sacrificios y tantas dificultades se nos acercan y se nos van y prácticamente se trata casi de estar en equilibrio entre esos momentos difíciles y seguir avanzando sin embargo un poco esto ok saluto tutte le persone che mi stanno seguendo Luis un fuerte abbraccio buona serata mi dice Marco salutiamo Marisol sto molto bene grazie a Dio abbiamo anche Adriana che ci saluta dal Cile mi raccomando cari amici ed amiche potete condividere questa diretta compartan este video su red social o lo pueden hacer en telegram en whatsapp también por favor darle like al video salutiamo anche Adriana Jacqueline Malena allora andiamo a vedere brevemente la lettura di nuovo di Eugenio Montale per conclusione dirvi semplicemente ciao Alexis come stai per dirvi semplicemente che questa poesia in italiano tenta di rendere evidenti in parole che utilizzano chiaramente la fenomenologia musicale fonetica ma anche poi semantica della flora della fauna l'idea di questa natura osservare la natura per capirne e capirne l'esistenza ma la simbologia nascosta di questa poesia sta nel creare un parallelismo tra il gravido sacrificio della natura che continua ad esistere tra enormi difficoltà lo paragona montale alla difficoltà di esistere al malessere di vivere a quella condizione umana sempre molto difficile dove si avanza con difficoltà in un equilibrio instabile tra molti pericoli ma così si continua ad andare avanti quindi è un po' il coraggio dell'uomo il cammino eroico dell'uomo all'interno di tanta a volte difficoltà che è un po' lo che sta passando oggi in oggi in oggi in poter seguire esistendo con firmezza con amor con verità con justicia con libertà con carità fraterna nel mondo oscuro in lo che siamo chiaramente hai che essere un ser di luce e un pequeño héroe no nel sentido che abbiamo che essere fuerti ante tanta maldata e di grandi scrittori che chiamo fomenta al ricordo a la comprensione che il mal hai che evitare la tua cuesta perché se può llegar al infierno completo e che in absence di nostra capacità lógica racional soprattutto di essere honesti e di querer moralmente avanzare una agenda de justicia libertà fraterna nos caiamo todos in un infierno aberrante ciao selva mi fa piacere che ti piaccia come sei gentile grazie mille a te vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza abbiamo anche una persona che si chiama saeed alexis e tutti gli altri un forte abbraccio allora lo leggo l'ultima volta è difficilissima quindi ci proverò merigiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto ascoltare tra i pruni e gli ster schiocchi di merli frusci di serpi nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche cora si rompono ed ora si intrecciano assommo di minuscole biche osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocciaguzzi di bottiglia cari amici questa è la poesia di montale andiamo per altri cinque minuti Adriana mi chiede come sto sto molto bene grazie a Dio molto bene cara Adriana forte determinato mi sento pieno di energie con il Signore Gesù che mi dà la forza di avanzare e soprattutto resistendo in maniera eroica di fronte a questo buio a questa oscurità che ci vuole prendere e inghiottire tutti quindi provando ad essere testimonianza viva della luce dell'amore di Dio allora andiamo avanti vi faccio leggere questa ultima poesia e tu come stai cara Adriana come state voi come state cari amici allora andiamo a leggere questa poesia di Sandro Penna che la intitola felice chi è diverso felice chi è diverso essendo egli diverso ma guai a chi è diverso essendo comune beh una poesia che sicuramente corta semplice possiamo anche provare a interpretarla che significa felice chi è diverso felice chi è differente siendo è differente ma guai a chi è diverso però hai di a quel che è differente siendo è comune ok cosa vuol dire probabilmente in questa poesia lo dico prima in italiano poi in spagnolo beh probabilmente la riflessione che prova a fare Sandro Penna è che nella nostra autentica essenza nella nostra autentica coesione con chi siamo davvero se siamo davvero diversi e unici essere unici e diversi nel rispetto autentico della nostra essenza è una cosa bella è una cosa giusta è una cosa positiva ma chi prova ad essere diverso prova a essere diverso come imitazione come falsa proposta come moda ma in realtà non lo è ed è comune ed è una persona che tradisce la propria essenza ecco probabilmente quello che tenta di dirci Sandro Penna è che la felicità sta proprio nelle stessi nella misura in cui davvero siamo chi siamo se siamo davvero diversi allora essendo lo possiamo esserlo ma quando ci allontaniamo dalla nostra autentica essenza chiaramente ne possiamo sbagliare andiamo a vedere quest'altra poesia dopodiché io chiuderei questa diretta perché non vorrei appesantirvi mi dice Adriana per rispetto alla sua risposta dice io male però sto qui cara Adriana se posso fare qualcosa per te dimmelo visto che ci tengo a te fammi sapere perché se è che si senti un po' triste per il periodo che stiamo vivendo se stai avendo delle difficoltà per la situazione in cui si vive nel tuo paese io sono sempre a disposizione per parlare con tutti voi ciao ciao Gladys ciao Maria come sempre vi segnalo l'opportunità non solo di condividere questo video e di poter in qualche maniera interagire con me nelle chat ma anche voglio per favore che se suscribano al videocurso gratuito italiano in marconizia.com per recebire tutto al correo elettronico di questa forma soprattutto a chi non me conozca e dice wow questa classe è molto complicata io non parlo in italiano sepan che non è che non fiumi direttamente a mil in questo in questa classe ovviamente io doi sempre sentato che le persone mi hanno seguito nel video gratuito che disponibilizza in marconizia.com e che può ricevere il corredo elettronico per aprender a comunicare in italiano qui lo che faccio è proseguire in la direzione di seguire parlare italiano di poter seguir comunicando e questo è un pochino il deseo che tengo per Adolos Ademais apprendere molto della cultura italiana che tanto non serve in esos tempos oscuros Adesso io direi e anche por compartan questa classe con sus contatos puoi darle like realmente questo aiuta un montone Allora andiamo a vedere Cesare Pavese che è un altro grande scrittore del secolo scorso che vale la pena di ascoltare ascoltare soprattutto anche lui nei moniti che ci dà verrà la morte e avrà i tuoi occhi già il titolo molto complicato molto duro parliamo di un periodo storico particolare dunque Cesare Pavese ha vissuto anche lui gli orrori della guerra e quindi ci dice verrà la morte e avrà i tuoi occhi e proviamo a leggerla e questa sarà l'ultima poesia di oggi verrà la morte e avrà i tuoi occhi questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera insonne sorda come un vecchio rimorso o un vizio assurdo i tuoi occhi saranno una vana parola un grido taciuto un silenzio così li vedi ogni mattina quando su sola ti pieghi nello specchio oh cara speranza quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla per tutti la morte è uno sguardo verrà la morte e avrà i tuoi occhi sarà come smettere un vizio come vedere nello specchio riemergere un viso morto come ascoltare un labbro chiuso scenderemo nel gorgo muti ecco vi faccio notare che in queste poesie vi è tutta la forza di un pessimismo o comunque dovremmo dire in quel periodo di una mancanza di speranza proprio perché ricordiamo stiamo parlando con sopravvissuti alle guerre mondiali stiamo parlando con scrittori uomini innanzitutto hanno praticamente perso tutto a cazzo guerra e che hanno vissuto la catastrofe della guerra e gli orrori annessi a quel periodo buio salutiamo anche Adriana e Maria Gladys e tutti quanti allora probabilmente vi starete rendendo conto che alcune poesie casualmente che oggi abbiamo letto non sono propriamente ottimiste non sono propriamente molto allegri ma certamente dobbiamo anche avere la forza di capirne il contesto il contesto che queste poesie provano ad evocare è proprio il contesto della guerra mondiale il contesto delle situazioni più orribili infernali la fame la guerra la malvagità l'assurdità del male che purtroppo attraverso anche le dittature del passato si è imposto con forza nello scenario europeo una delle motivazioni per cui molti di noi europei stiamo in questo periodo suonando l'allarme anche per voi in tutto il mondo è perché in Italia soprattutto soprattutto in Italia abbiamo un'esperienza fortissima di quella che è stata la dittatura abbiamo un'esperienza fortissima ed un ricordo storico molto importante di quello che è stato ovviamente il periodo buio del novecento è tutte le conseguenze orribili disumane indegne di quel periodo davvero terrificante quindi noi vogliamo mettere in guardia le persone affinché ciò non venga a ripetersi ora per quanto riguarda Cesare Pavese anche lui scrittore che ha vissuto il periodo orribile delle guerre in particolare in particolare ecco è entrato nella sua poetica a dare un senso a provare a dare un senso a spiegare a porre attraverso la sua poetica di fronte alla coscienza degli altri questa situazione questa situazione che è una situazione chiaramente di morte perché dobbiamo sapere che tra la prima e la seconda guerra mondiale inclusi ovviamente questi due episodi ci furono tante problematiche e chiaramente molti giovani morivano in quantità industriali per delle guerre che sono state davvero durissime allora leggiamo nuovamente provando a tradurre che vuol dire in spagnolo la muerte vendrá y tendrá tus ojos la muerte vendrá y tendrá tus ojos esta muerte che nos accompagna del de 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 la mañana a la noche sin dormir y sorda o sea como un viejo remordimiento o un vicio absurdo tus ojos serán una vana palabra un grito silencioso un silencio así así los ves cada mañana cuando sobre ti misma te doblejas en el espejo o querida esperanza aquel día sabremos también nosotros que eres la vida y que eres la nada o sea quiere decir que la esperanza es la vida y es la nada y esto es difícil entender que quiere decir si es que quiere decir que ha perdido la esperanza o si que la esperanza tal vez es contemporáneamente la vida y la nada para todos la muerte tiene una mirada es como decir a todos llega la muerte tarde o temprano ¿no? entonces para todos la muerte tiene una mirada es como si te mira y te pilla vendrá la muerte y tendrá tus ojos será como parar el vicio como ver en el espejo la reemergencia de una cara de un rostro muerto como escuchar un un labio cerrado descenderemos en el remolino mudo sería en un remolino mudo propio allora como posso tradurre en palabras sencillas una poesía tanmente complicada beh de seguro podremos farlo con mucha più capacidad interpretativa nel momento in cui vorremos insieme spero lo vogliate anche voi estudiare molto di più la poetica e anche la biología di questi poeti se noi andiamo a vedere Cesare Pavese chiaramente così come potremmo parlare di Montale ci renderemo subito conto del fatto che la loro poetica è fortemente influenzata dagli avvenimenti biografici va bene Cesare Pavese tra l'altro è considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del secolo appena passato e dunque oltre ad essere stato un traduttore un insegnante è stato anche un combattente antifascista quindi ricordiamoci che lui fu arrestato praticamente e fu condannato per antifascismo quindi è molto importante se lo dico in spagnolo para que puedan entender metodos e stamos hablando de un hombre che a parte aversi un intellettual traduttore insegnante scrittore lo che ha differenziato nel tempo per la poética che poi ha proposto e anche per il tipo diografia che le tocco vivere chiaramente stavo vivendo un un papel di protestare o resistire ante la dictadura fascista tenete tutti che sapere che nel siglo passato in Europa soprattutto in la prima parte del siglo passato a parte di le grandi guerrani mondiali che tutti conosceranno per la storia mondiale a parte di questo ovviamente le grandi tiranee le grandi dictature il nazifascismo ose il fascismo in Italia il nazismo in lo che fu Alemania l'evo también los problemi della rivoluzione bolshevica la rivoluzione roja che vio mediante Lenin e Stalin dictadores terribles e devastadores que hicieron otro genocidio incluso más grande en términos numéricos luego estuvo la revolución de Mao Zedong fue un siglo devastador donde literalmente genocidios guerras mundiales muertes bombas atómicas todo tipo de locura pues fue un infierno entonces esos hombres en Italia también pues vivieron el infierno y claro como darle a entender a los hombres de hoy que el infierno pues existió y que periódicamente nos exponemos al infierno cuando nos alejamos de la verdad nos alejamos de la palabra de Dios nos alejamos de la moralidad de Dios nos alejamos del amor de la caridad fraterna de la justicia de la libertad de todo lo bueno de la búsqueda del bien cuando nos alejamos de la búsqueda del bien nos queda solo el mal es solo que intentan hacer esos intelectuales y Cesare Pavese en particular es estado un combattente y es estado condannado por antifascismo cioè él provaba en aquel periodo de evitar la dittatura y en 1935 llegó anche en Calabria a Branca Leone e poi se ne ritorno a Torino e il periodo della guerra ecco nel 1940 l'Italia entra in guerra e quindi Pavese che era coinvolto in una avventura sentimentale si trova nel nel 1943 quando Torino venne occupata dai tedeschi a vivere delle difficoltà lui si rifugiò a Serralunga vicino a Monferrato non vi voglio dare tutti questi particolari però in qualche maniera era un uomo che aveva avuto problemi d'asma aveva problemi di tipo nervoso aveva comunque vissuto il periodo delle guerre se non direttamente anche perlomeno parliamoci chiaro i problemi dell'antifascismo quindi la sua la sua dinamica la sua lotta sia intellettuale che anche da un punto di vista della persecuzione quindi insomma è sempre un qualcosa di emozionante da leggere io ovviamente sto leggendo e sto pensando allo stesso tempo quindi perdonatemi se il mio non è molto coeso però si trovò comunque in un periodo particolarmente da una parte emozionante l'altro molto stressante perché ci troviamo comunque in una situazione dove ci furono molti bombardamenti ci furono poi anche molte battaglie quando le prime formazioni partigiane iniziarono proprio a tentare di risolvere il problema della dittatura in Italia quindi insomma stiamo parlando comunque di una persona che in qualche maniera è rimasta molto molto scossa dagli avvenimenti del suo presente io direi di rimanere qui oggi in un tema anche un po' di semplicità perché mi rendo conto che siano difficili però spero appunto che questi questi poeti queste poesie non certamente destino in voi sentimenti di pessimismo ma piuttosto che vi diano gli elementi per poter controbattere per poter avere l'energia per avere la forza e per avere anche la speranza in fin dei conti noi siamo qui dopo ormai un secolo e abbiamo raccolto l'eredità di tutto ciò che fu e possiamo farne buon uso chiaramente siamo adesso nella situazione di nuovamente purtroppo realisticamente cadere nelle stesse trappole del passato ma abbiamo gli strumenti cognitivi intellettuali storici psicologici spirituali per poter superare ed evitare gli errori del passato io vi ringrazio molto per la vostra gentile attenzione soprattutto perché abbiamo perlomeno potuto conoscere anche se in una fase puramente estetica puramente diciamo così superficiale la poetica e quindi le poesie in particolare di questi grandi scrittori italiani ma è sempre un qualcosa si inizia sempre con qualcosa di semplice innanzitutto voglio salutare Martic che mi ringrazia Elisabeth mi dice buona serata a tutti Mariel buona giornata buona tardes ciao Luis Hernandez abbiamo anche Maya che mi saluta ciao saluto anche Adriana Maria vediamo c'è Gladys Saeed Selva Alexis abbiamo Marisol Luis Jacqueline Melena Luke Marissa Mirta Letti Luz Karime Isidro Iris Lita Letti Graciela vi ho salutato tutti spero in questa maniera di non aver lasciato nessuno fuori io vi ringrazio molto per la vostra gentile attenzione vi faccio con molta energia vi ricordo come sempre di per favore condividere questa diretta e di dare like al video sottoscrivetevi al canale YouTube Marconicida ma anche mi raccomando se siete appena arrivati qui e se non conoscevate questo canale lo dico tambien in espanol pues si en ocasiones se agregan a este video o no conocen esta maravillosa oportunidad para aprender il idioma italiano sepan che si quieren empezar desde cero existe un video un video curso maravilloso para que puedan desde cero aprender a comunicarlo muy simple muy práctico muy divertido con frases de la vida útil con situaciones reales y lo pueden encontrar suscriviendose a marconicida.com y recibirán direttamente al correo il goto del videocurso italiano cada día con una nueva lección io le sagresco mucho Cora mi dice ti saluto dall'Argentina grazie mille per tutta la saggezza che ci dai io ti ringrazio Cora ovviamente spero sempre di proporvi degli argomenti validi io credo molto nel potere che ha la conoscenza e la cultura per generare anche una trasformazione personale e collettiva credo fortissimamente che noi possiamo fare tesoro della conoscenza del passato dell'esperienza degli uomini e delle donne del passato che ci hanno lasciato nelle loro poesie nelle loro architetture nel loro pensare nel loro vita nella loro esperienza ci hanno lasciato anche una chiara indicazione su come procedere proprio per evitare gli errori del passato è necessario evitare gli errori del passato e proprio cercare di migliorare e di perseguire il bene perseguire il bene perseguire la verità l'amore la giustizia la libertà la carità fraterna tutti insieme quindi mi raccomando ricordiamoci poi che esiste sempre l'amore la luce e il bene quindi abbiamo forza abbiamo fede io vi ringrazio tanto per la gentilezza ciao Marisol grazie per il tuo messaggio molto bello solo per ricordarvi dunque oggi abbiamo letto Cesare Pavese con questa poesia poi abbiamo letto Senna abbiamo letto Eugenio Montale abbiamo letto anche Primo Levi importantissimo spero che voi lo leggiate e poi l'altra scorsa volta avevamo letto Salvatore Quasimodo Giuseppe Ungaretti Giacomo Leopardi e Trilu quindi sono sempre le migliori poesie e i migliori poeti o scrittori che io vi presento la prossima volta leggeremo Giovanni Pascoli Giovanni Pascoli con la sua poetica del fanciullino Giovanni Pascoli che probabilmente insomma ci darà anche un po' più di serenità che è sempre molto molto importante e poi guardate vi presenterò la prossima volta Dante Alighieri nella sua poetica che tra l'altro a me piace molto di quel periodo ricordiamo anche Cavalcanti io non credo che molti di voi lo conoscono ma un italiano sicuramente che mi sta seguendo sa di cosa dico quindi la poesia cavalleresca o comunque il gentil stile insomma tutta la poetica anche del Cavalcanti quello stile davvero diciamo così innamorato cavalleresco che in qualche maniera innalza la donna ecco molto romantico un romanticismo peculiare che poi Dante Alighieri nella sua Divina Commedia innalza addirittura con Beatrice a livelli mai visti vedremo anche quello con lo stile nuovo eccetera eccetera io vi ringrazio spero che questo vi piaccia la cultura italiana è davvero meravigliosa vi ringrazio gentile attenzione ci vediamo alla prossima un grande abbraccio da Marco e adesso è arrivato il momento di cenare quindi tra poco vado a mangiare ci vediamo alla prossima fatemi anche sapere se volete ritornare anche in parte a quei video nei quali facevamo conversazioni e pratica perché so che vi piaceva molto ok? un forte abbraccione ci vediamo da Marco arrivederci